Sono stati liberati i due piloti della compagnia di bandiera turca sequestrati a Beirut. La liberazione sarebbe avvenuta dopo il rilascio dei nove cittadini libanesi rapiti in Siria nel maggio del 2012 da un gruppo di ribelli. I cittadini libanesi erano stati accusati di far parte di Hezbollah, alleato di Assad nella crisi siriana. In questo complesso quadro internazionale il sequestro dei due piloti avrebbe dovuto spingere il governo turco a intervenire. La Turchia non c'entra con il sequestro ma avrebbe potuto aiutarci nel velocizzare la liberazione. Considerata vicina ai ribelli siriani, Ankara è accusata di non aver accelerato la mediazione diplomatica. La liberazione degli ostaggi sarebbe stata infatti ottenuta grazie all'intervento del Qatar. Dopo un anno e mezzo di bugie e di grande sofferenza, ora sono davvero senza parole. La liberazione degli ostaggi allenta di poco le tensioni dovute alle ripercussioni della crisi siriana in Libano, dove lo stato d'allerta rimane comunque altissimo, soprattutto dopo le esplosioni avvenute in diverse parti del paese. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.